La mia filosofia non solo non è conducente alla misantropia come può parere a chi la guarda superficialmente e come molti l'accusano, ma di sua natura esclude la misantropia. Di sua natura tende a sanare, a spegnere quel malumore, quell'odio non sistematico ma pur vero odio, che tanti e tanti, i quali non sono filosofi e non vorrebbero essere chiamati né creduti misantropi, portano però cordialmente a loro simili, sia abitualmente, sia in occasioni particolari, a causa del male che giustamente o ingiustamente essi, come tutti gli altri, ricevono dagli altri uomini. La mia filosofia farea d'ogni cosa la natura, e discolpando gli uomini totalmente, rivolge l'odio, o se non altro il lamento, a principio più alto, all'origine vera dei mali dei viventi.